Insediamento ufficiale questa mattina del CICAS, il comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore presieduto dall'assessore regionale alle politiche del lavoro Andrea Gerosolimo. L'organismo di confronto e valutazione delle crisi aziendali avrà una durata di tre anni e gestirà le risorse nazionali e regionali destinate alle politiche passive del lavoro. Un tavolo di confronto interistituzionale molto importante, ha detto Gerosolimo, sul quale sono chiamati al confronto le associazioni di categoria e dei lavoratori più rappresentativi in Abruzzo in materia di ammortizzatori in deroghe e processi di mobilità. Tante le richieste già pervenute via libera le istanze presentate da 174 imprese che coinvolgono 581 lavoratori. Dovrà invece ancora attendere la richiesta avanzata dal comune di Pescara sugli ex interinali di Attiva. Bisogna verificare qual è la reale disponibilità di cassa perché abbiamo dato mandato all'Inps in questo senso di verificare quelle che sono poi effettivamente le risorse che dovremmo investire e per poi regolarci i conseguenze.